bentornati ha detto fatto io sono valentina e lui è fabrizio allora oggi proviamo a costruire un animale di fantasia con una bottiglia del detersivo come questa vogliamo cominciare ok come lo vogliamo costruire questo animale di fantasia come lo vogliamo fare questo animale vogliamo fare tipo un dinosauro un dinosauro maialino ci proviamo adesso facciamo una cresta una cresta questo dinosauro questa specie di dinosauro facciamo una bella cresta gialla adesso incolliamo la nostra cresta sulla bottiglia di plastica sì adesso facciamo una coda del nostro dinosauro preistorico di fantasia incolliamo la nostra coda adesso per far mantenere il nostro dinosauro di fantasia dobbiamo inserire sotto delle puntine da lavagna adesso incolliamo gli occhi del nostro dinosauro preistorico di fantasia incolliamo? sì allora questo è il nostro animaletto di fantasia ultimato fabbri secondo te che verso fa questo animaletto? provateci anche voi vi aspettiamo alla prossima puntata di detto fatto ciao 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 ciao